Nell'ambito del cartellone Marzio in Rosa 2024, il Comune dell'Aquila ha organizzato un evento speciale per celebrare le donne aquilane che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città, mercoledì 13 e mercoledì 20 marzo a Palazzo Margherita d'Austria dalle 16.30. Gli appuntamenti saranno ricchi di spunti di riflessione e momenti di condivisione, con l'obiettivo di far conoscere al pubblico le storie di coraggio, tenacia e talento di donne che, in epoche diverse, hanno contribuito al progresso sociale e culturale dell'Aquila, capoluogo di regione. Attraverso interventi di esperti, testimonianze e performance saranno ricordate figure femminili che si sono distinte in vari ambiti, dalla politica alla scienza, dall'arte alla letteratura, un'occasione per riscoprire le loro vicende e l'eredità preziosa che hanno lasciato alla comunità aquilana. Raccontiamo il segno delle donne, raccontiamo senza alcuna pretesa esaustiva, naturalmente, donne aquilane che hanno lasciato il segno. Volevamo un racconto della città al femminile, delle ambasciatrici possiamo quasi dire, quindi da Paolina Giorgi, Amalia Sperandio, Labbonanni, Ondina Valla, Palazzo Margherita si aprirà. Con queste donne alla città sarà veramente interessante perché sarà un vero e proprio spettacolo. Io invito tutta la cittadinanza a scoprire questo appuntamento e a partecipare. Volevamo una l'Aquila più rosa, volevamo che fosse conosciuta e vogliamo poi dopo in prospettiva trasfondere questi appuntamenti e gli altri che seguiranno in una pubblicazione tutta al femminile in rosa a cura dell'assessorato alle pare opportunità. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un'importante opportunità per riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella società e per promuovere la parità di genere.